ecco il nostro fungaiolo dopo averne trovato uno io in un dirupetto vicino Marco è venuto qua anche il mio era bello e lui allora è venuto qua e ha visto ecco l'ho perso comunque ce ne due infatti te lo volevo dire perché ci ho guardato fai il panoramico fai glielo vedere si vedi qui usa lo zoom se non si vede dove è quell'altro è quell'altro sotto vedi eh ce ne due e poi a pochi centimetri ce ne ha un altro ok vediamo bravissimi si vediamo peccato il mio che mi è venuta via la testa se no era bellissimo no però pesa pesa lo stesso guarda com'è bello questo è bello da foto bellino aspetta no indietro di buono pure di cascà va bene ti faccio anche la foto si spegni così il biglio orecchie ciao a tutti ciao a tutti a dopo ciao a tutti